Si chiama Chang'e-606 ed è una sonda che hanno mandato i cinesi, quindi è una sonda cinese spedita direttamente, pensate, sulla Luna, per andare ad esplorare l'altra faccia del nostro satellite, il satellite naturale per eccellenza. E questa sonda va a portare sul nostro pianeta, quindi sulla Terra, dei campioni chiamati campioni rivelatori. Infatti pensate che la sonda ha raccolto con pieno successo materiali che appartengono all'autoscuro del nostro amato satellite, i scienziati pensate che andrebbero a rispondere finalmente a diverse domande che sono ancora a botte nel mistero e che riguardano propriamente parlando il nostro amato satellite. Il 3 di maggio è stata lanciata e è tornata sul nostro pianeta il 25 di giugno, atterrata nella regione della Mongolia, quindi in Oriente, con un campione di suolo lunare, che da primi testa sembra essere roccia vulcanica, che risale a circa 2 milioni e mezzo di anni o solo. Contiene anche altri materiali, l'analisi potrebbe dare delle risposte a domande che ancora non sono state soluzionate, ancora non hanno ricevuto una delle mie risposte. Va bene? Mi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi utenti di Youtube. Insomma, Chang6 o Chang6 promette di garantirci novità per quanto riguarda il sapere dell'alma. Grazie a tutti, una buona giornata a voi.